La dico grossa, e so di essere in questo veramente in totale minoranza, spero che Fagioli vada via dalla Juve. E lo dico da giocatore, da grandissimo ammiratore di Fagioli, lo reputo il più grande talento che noi abbiamo. Penso che alla luce di quello che è successo, una società debba prendere una misura. E la misura è che Fagioli devono andare via dalla Juve. Perché, ripeto, a me tutti i discorsi sullo smartphone, la solitudine, sono tutti giusti. Però deve essere anche giusto il fatto che una società non possa concepire che un soggetto a cui tu dai un milione e mezzo di euro all'anno e che hai allevato tu in casa, hai allevato tu in casa e quindi è da anni che hai rapporti, si comporta in questa maniera.